La peste che il Tribunale della Santità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel milanese c'era entrata davvero, come è noto, ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. Condotti dal filo della nostra storia, noi passiamo a raccontare gli avvenimenti principali di quella calamità nel milanese si intende, anzi in Milano quasi esclusivamente, che della città quasi esclusivamente trattano le memorie del tempo, come a un depresso accade sempre per tutto, per buone e per cattive ragioni. E in questo racconto il nostro fine non è per dire la verità soltanto di rappresentare lo stato delle cose nel quale verranno a trovarsi i nostri personaggi, ma di far conoscere insieme, per quanto si può in ristretto e per quanto si può da noi, un tratto di storia patria più famoso che conosciuto.